Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR Nel video di oggi prima di tutto vi chiedo di perdonarmi Io sono stroccata e ho un sacco di problemi di profoli vari Quindi appunto non essendomi troccata la cosa si nota un po' di più In realtà li avevo già in altri video semplicemente ero stroccata quindi non me ne siete accorti Però spero di risolvere a breve Comunque non è questo l'argomento del video di oggi Oggi faremo un po' una porcata perché andremo a mangiare, anzi andrò a mangiare delle schifezzine con voi Le voglio assaggiare, non le ho mai assaggiate Per una volta proviamo qualcosa di nuovo, di diverso sul canale L'abbiamo preso un trucco, ho preso tre cose a tema Harry Potter Le ho viste ovunque, su web Allora, ho questo cioccolato che è il cioccolato di Harry Potter C'è scritto semplicemente in Grifondoro Il potere dei cristalli colorati Topoletta di cioccolato al latte con granelli di zucchero colorati E poi abbiamo altro cioccolato che sono queste Tavolette qui sempre Harry Potter che è bello parlante Barrette cioccolato al latte con cremosere piena al latte e popping candy Sono queste qui e le tavolette all'interno, le barrette sono fatte così come fossero parrette di Kinder E questo è quello che mi incuriosisce in assoluto E poi c'è questo Biglietto però per sempre Harry Potter Sono tipo simili da Horchock però con la base di cioccolato, cacao E la parte di sopra invece con cioccolato bianco Biscotto al cacao con tavoletta di crema al latte E inizieremo proprio da questi con cui io non ho ancora provato niente di queste tre cose Ne ho sentito parlare bene e male sul web E non le avevo trovate fino ad adesso Al supermercato c'erano anche altre cose della stessa linea Però non potevamo comprare tutto Quindi iniziamo da qui In grasso per voi Allora questo è il biscotto London Two Worlds Biscotto E' un contavoletta di crema al latte E' fatto così E' fatto così Non so se è perché la base del cacao e del cioccolato bianco o altro per altri motivi E' una soglia per niente Io la chocco Comunque molto bello tutto intagliato E' fatto è importante E' un bel cacao E' un dolore E' un dolore E' un dolore Diminge E' un dolore Iniziere E' un dolore E' un dolore E' un dolore davvero molto buono si sente molto si sente poco il cioccolato bianco di sopra e invece si sente molto il la base a cacao al cacao del biscotto che secondo me copre un po' il gusto della parte di sopra però sinceramente mi piangono per essere un biscotto confezionato devo dire è buono certamente le confezionano a uno a uno ora ora stiamo registrando un video quindi ne mangio uno perché ho altre cose da assaggiare ma se fossi da sola a casa mia a mangiare a fare merenda penso che mi mangerei tutto il pacco non so quanti sono, sei sei sì penso che mi mangerei tutto il pacco comunque di sicuro me ne mangerei uno così però vabbè comunque è molto buono lo ricomprerei ora assaggiamo questa la tavoletta al cioccolato non ho aspettative altissime perché Vitors non so come si pronuncia sinceramente però comunque la marca non è non la ritengo tra le migliori e comunque nella mia vita ho assaggiato tanto 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 cioccolato perché mi piace molto ne mangio tanto sono stata in varie fabbriche di cioccolato sono stata in Pizzero questa non sono stata l'anno scorso anzi sono stata in Belgio e quindi non ho aspettative altissime sulla qualità del cioccolato però volevo provare questi prodotti di Harry Potter quindi siamo qui per questo questo è un quadratino come vedete c'è lo stemma di Hogwarts ci sarebbe assolutamente voluto il Blue Yeti per questo eating perché non so se voi sentite non ho idea veramente ma all'interno ci sono dei tipo mini confettini para smarties che quindi da masticare sono molto ecco li sentite io riconosco l'utilità per l'SMR però ha un po' il cioccolato il cioccolato sul latte è il mio preferito e quindi mi piace comunque però l'avrei preferito senza come si chiamano codette cioè senza questi cosini ora andiamo a provare queste che dovrebbero essere simili barrette Kinder perché sono latte di fuori e cioccolato di fuori e latte di dentro e quindi dovrei amarle però ancora me la faccio vedere e l'assaggio vedete con il cappello bellante spero che si senta sicuramente questo terzo è il prodotto che mi è piaciuto di più in assoluto di questo video anche qui non ho apprezzato le queste cosine all'interno e non è assolutamente la stessa è la brutta copia di una barretta Kinder però sicuramente è la cosa migliore di questo di questo video niente ragazzi è da un po' di tempo che non provavo delle cose nuove con voi perché ho fatto fare volta il dating però ultimamente spesso di pizza pasta o comunque pranzi e cene normali non cose particolari quindi sono contenta di essere tornata con questo video non ho idea di cosa avete sentito ci sarebbe voluto un video comunque un microfono buono per questo video però purtroppo non ce l'ho qui con me quindi l'alternativa era il nulla non era questo video con blu iedi niente io spero che il video di oggi vi sia piaciuto e vi abbia rilassato non sono molto contenta di farmi vedere così sinceramente però alla fine fa niente ormai l'ho registrato quindi ve lo caricherò io vi ringrazio vi saluto e vi dico che ci vediamo direttamente nel prossimo video grazie per aver scelto di guardare questo fatemi sapere se vi possono interessare altri video simili io mi ringrazio ancora e vi dico che ci vediamo direttamente nel prossimo se non siete iscritti iscrivetevi ciao a tutti